Bilancio del nucleo carabinieri forestale di Arezzo che dall'inizio del 2023 ad oggi ha concentrato la propria attività sul dissesto idraulico denunciando 32 persone per un totale di 22 irregolarità di carattere penale per la violazione del divieto di edificabilità nelle aree di rispetto idraulico e per la realizzazione di opere in assenza di permesso a costruire. Le attenzioni si sono concentrate sugli affluenti del canale maestro della Chiana anche a seguito dei tragici eventi del luglio 2019 con esondazioni e purtroppo una vittima. Un caso emblematico è quello del rio Rigutino dove è stata riscontrata la presenza di numerosi manufatti di varia natura, piccoli annessi, recinzioni realizzate in assenza di autorizzazioni e concessioni. Tutto ciò ha delle conseguenze oltre che di natura penale anche dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Le opere abusive diminuiscono l'ampiezza dei corsi d'acqua. Muri di cemento armato che sono diventati argini vanno a modificare la portata. Questo fenomeno sommato ai cambiamenti climatici ha un impatto devastante. L'operazione del nucleo carabinieri forestale va a braccetto con la ricognizione sulla sicurezza dei ponti, tanto che quello sul rio Rigutino è stato demolito. Per quanto concerne gli illeciti spesso risalgono agli anni 60-70. Spetterà ora agli eredi il corretto ripristino.